Il porto di Sapri è nel degrado, spazzature e ratti la fanno da padroni. La denuncia è della guardia agroforestale, sezione Auletta, che chiede la bonifica delle aree abbandonate. Dopo continue segnalazioni da parte anche dei pescatori locali, due volontari dell'associazione hanno tenuto un sopralluogo. Abbiamo notato dei topi, probabilmente attratti dai cumuli di immondizia non differenziata presenti sul molo. Hanno riferito alla nostra redazione. Non conosciamo le ragioni per le quali i rifiuti non vengono ritirati, ma è evidente l'indifferenza rispetto al problema. Siamo alle porte dell'estate, aggiungono, è uno dei luoghi simbolo della stagione balneare e in pessime condizioni, segnale di una scarsa attenzione verso l'ambiente e il decoro. La guardia agroforestale, che da un decennio opera in convenzione con tanti comuni italiani, ha più volte manifestato la propria disponibilità al sindaco Antonio Gentile a stringere un patto a tutela del paesaggio. Purtroppo, spiegano dall'associazione, non c'è mai stato ascolto e dialogo ed oggi denunciamo pubblicamente solo l'ultima delle situazioni di degrado che più e più volte ci sono state segnalate. Il rapporto del sopralluogo sarà inoltrato al sindaco e ai vigili urbani, con richiesta del ripristino della salubrità dei luoghi. Sulla questione è intervenuto il consigliere d'opposizione Donatella D'Agostino. Siccome il diritto d'accesso agli atti ci viene sistematicamente negato, dice, chiedo pubblicamente al sindaco e all'assessore al porto Cetrangolo se sono a conoscenza della presenza dei rifiuti nello scalo ed eventualmente cosa sta accadendo tra il comune e la ditta incaricata della raccolta della spazzatura nella nostra città.